Pensiero del giorno. Scrivo esprimendomi con parole ispirate dallo Spirito e benedette dagli angeli. Mi concedo di prendere nota dei messaggi del cuore. Scrivi. La parola scritta è uno straordinario mezzo per esprimersi, insegnare e imparare. Inoltre è un modo per connettersi con il cielo canalizzando informazioni dal Divino. Probabilmente hai avuto molti indizi durante la tua vita che la scrittura è parte della tua natura e del tuo scopo. Questo è un messaggio che ti invita a trovare il tempo oggi per sederti a prendere in mano la penna. Il processo della scrittura ti apre a ricevere nuove idee e informazioni. Hai accesso al tuo insegnante interiore e alla saggezza dell'universo. Quindi non preoccuparti dell'argomento. siediti semplicemente di fronte al tuo computer o a un foglio di carta e inizia a trascrivere tutto quello che ti viene in mente. Non c'è problema se le tue parole non hanno un senso o se all'inizio i pensieri e i sentimenti che cerchi di esprimere ti sembrano poco chiari. La direzione che prenderà il tuo scritto diventerà evidente quando avrai cominciato. Fai diventare questa attività parte integrante della tua vita, una vera e propria abitudine quotidiana. Noi angeli ti aiuteremo a superare la mancanza di fiducia in te stesso e ti guideremo se ce lo chiederai. Oggi trova il tempo per scrivere e osserva i benefici emotivi e di autostima che ne derivano. e allora